Grazie ... Buon lavoro a tutti! Grazie, buon lavoro a tutti! Grazie, buon lavoro! Buongiorno, lei è il tuo unico uomo! Tutti scusate, buongiorno, come è stato? Volevo salutare i bambini, ciao! Ti chiami? Venga a trovarmi, anche a lui, io conto terzi. Infatti, grazie da lavorare! No, no, prima le foto, scusa, come si chiamano i giocatori? Ai ragazzi della Ramattese, Omegna. Quanti ragazzi avete? 120. E non fate prima squadra? No, cara grazie a settore giovanese. Volevo fare una foto, sicuro, se non si credi che è qui. Anche due o tre. Presidente, me ne fa una per mia mamma che c'è 9 anni. Come si chiama la mamma? Rosina. Grazie di tutto quello che fa, Presidente. Io sono anche maestra, corte da del tutto, come mia moglie e quindi grazie. Come sta andando? Io della buona scuola sono contenta. Perché ho pure scritto, questa è la maglia della Ramattese, per i nostri ragazzi. La pena perché voi politici avete le mani un po' troppo lunghe. Ma me l'hanno trattato il mio? O li hanno strappati tutti dalla mia agenda? C'è il mio? Un bocca al lupo. Grazie, grazie. 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 Grazie.